Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ogni tanto capita che insieme ai miei amici facciamo qualche gioco nuovo oppure vecchio che ogni tanto riprendiamo beh Payday è uno di questi infatti questa è una rapina dopo tanto tempo che non ne facevamo una spero che vi piaccia questo video improvvisato e lascate un like, commentate iscrivetevi e buona visione scriviamo A B invio C invio, perfetto pre pianificazione, vai qua allora LASER sappi solo questo io ti troverò ovunque tu andrai ti troverò e ti mangerò tutta la pasta che sta sul fritto LASER LASL che c'è contro LASL LASER perfetto, sono sul tetto non sono più sul tetto complimenti, complimenti MENO MALE e dico MENO MALE che l'ho registrata ma MENO MALE io che ti dico complimenti o quello che ti succede? quello che è successo Robin modifica l'arma Robin oh mai non voglio Ron Ron ti salverò io Conan ahimia no non loggare adesso no aspetta beh ora vai log no aspetta il mod operandi della macelleria consiste nel sforzare armi dentro la cassa carne delle carne delle carne abbassati appena sponi appena sponi abbassati 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 premo già citriare abbassati telecamere down oh fuck hai finito? prendi i sacchi dei cadaveri te li sei equipaggiati almeno no eh ti faccio uno scherzo scherzone ascolini ah ti rinvito i sacchi vuoi equipaggio i sacchi chicchi di rani non lo equipaggio lo sto equipaggiando lo sto equipaggiando ma guarda che scherzo che ho fatto a sto guardia ma che sono burlone dimmi appena sponerai perché io poi ti devo addirittura mamma che brutto malinquente che non è altro oh stone artefatto non ho parole di già neanche è iniziata la missione e già c'è un parolone ma non si vergogna quel drone non vorrei andare ma sono aggiunte altre 4 guardie no non c'è l'artefatto la riavviamo? ah? la vuoi riavviare solo perché non c'è l'artefatto? esatto vuoi? che dici? che sta bene vabbè perché è leftata allora? eh? perché è leftata? io sto due borsoni e una guardia su quattro fatta ma tanti serio? vabbè ma mica hai fatto qualche guardia? eh no è questo il problema dovevo farne una ma non mi ha cagliato di striscia fa niente quando nella foto c'è scritto Marco quindi non può dire niente infatti ma hai buttuto la carrugola ora te lo porti tu che cosa? no hai buttuto la carrugola e guarda un ladro ti ruba un ladro non ci posso prendere oh Carlo vieni qua prego vieni qua eh aspetti mi sono un po' ti prendi prego devi venire qua ti prendi prego ma arrivo dove stai? ah ok vieni qua entra come si fa? non lo so entra non si arriva non si entra è impossibile come si entra? come si entra? come si entra? puoi andare puoi andare come si entra? oh si è entrato come si esce? oh fa culo muori di nuovo non è lo stesso nomorato da tessere ma il server ce l'hai tu? no no io non ho preso nessun è tornato lo stesso civile nello stesso punto ora se mi fa una di nuovo eh calo sfatti miei sfatti miei eh veramente se mi hai sgamato fa anche i cazzi miei comunque prossimo livello tra 740 in riproduzione e no no c'è 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 stato anche munizioni e ho preso e stavo continuando a premere due cose vabbè niente cazzi miei che sa che vabbè tu sappi che potevo spendere tutta tutta la partita a prendere dei sacchi immaginare oh chi sta guarda che non mi separa un cordone di nylon chi l'ha detto vai cordone e come fai a sapere che quello è di nylon scusa c'è scritto come c'è scritto no no ma qua siamo pazzi tu non puoi capire eh lo so che non posso capire ho riaperto due volte lo stesso container dopo che ho aperto da una parte e sono riuscito da una parte c'è trovato qualcosa c'è c'è il c'è la parte ok no perché alla fine non mi hai detto più sai come ma io voglio provarci sinceramente eh te l'ho detto finiamo tutto intanto mancano due sacchi uno lo sto portando io ah Ivan è lì ciao Ivan io vorrei darti una mano prendendo l'ultimo l'ho preso io che devi fare l'ho preso io ah l'hai già preso l'ultimo io 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 no aspetta finisco a saccheggiare dentro tu prova a fare l'artefatto che ti lo dico eh infatti non puoi farlo quindi devi farlo per forza già potrebbe essere più utile di quello che pensiamo a questa botola praticamente sono al manufatto calò serio questa botola che porta direzione al manufatto e allora poi dimmi dov'è che arrivo incontriamoci alle fogne calò stavo per morire caduto dalle fogne caduto dalle fogne nuovo film caduto dalle fogne sulla tomba caduto dalle fogne cosa di morte caduto dalle fogne ma perché metti tra panelli no perché l'hai fatto tranquilli state tranquilli ho messo un jumper scappa siamo fuori si ciao Gertrudo muori o ci sono Ivan comunque no Ivan io sono fuori cioè io sono al a cazza fa dai che forse riusciamo senza devi runnare sto runnando run ti salvo io dai non posso mi sono un piede di porco che fallo che fallo io ci so io ci so muoviti l'allarme se scatta l'allarme ti aro senza allarme nice eh sì ma non abbiamo fatto un cazzo rifacciamola dai ci sta pay pay attenzione niente una maschera pure tu io la signora manichino tu clover ma perché mi dice si sblocca acquistando le ultimate edition io ce l'ho le ultimate edition no no ma pure io e perché lo dice allora ma pure non lo dice tranquilla ma perché è buggato ok ciao